Lo sapevate? La dieta non serve solo a perdere taglie, ma anche ad aumentarle. Sto parlando delle taglie del seno. Il cibo può avere effetti tonificanti, rassodanti e perfino push-up per i muscoli e i tessuti della nostra front line. E questa è la promessa della dieta push-up, un regime alimentare perfetto per ottenere un fisico scolpito e bello sodo in poche settimane. Ma come? Come sempre, consumando i cibi giusti. Gli alimenti non sono tutti uguali e infatti ognuno produce effetti diversi sull'organismo. I cibi ricchi di estrogeni, per esempio, stimolano la crescita e la tonificazione del seno. Ce ne sono numerosi, non solo latte e latticini, ma anche semi di zucca, di girasole, di sesamo, di anice, di lino. I cibi che notoriamente contengono fitoestrogeni come la soia e il tofu vanno benissimo e sono anche una ottima fonte di proteine con pochi grassi. Ottimi puri cereali integrali per sfoggiare le curve con più orgoglio. E poi frutta e verdura, 5 porzioni al giorno, in particolare finocchi e frutti di bosco per contrastare l'azione antitonicità dei radicali liberi. Vogliamo entrare nel dettaglio? Gli alimenti ricchi di manganese come le ostriche, i crostacei, i gamberetti, le alghe, il cacao favoriscono la crescita del seno. Come funziona la dieta push up? Colazione, smoothie a base di frutta e verdura fresca, yogurt bianco o di soia con cereali integrali. Pranzo, riso integrale con gamberetti e zucchine. Cena, tofu alla piastra con contorno di finocchi freschi. Un dolcetto, cioccolato fondente e frutti di bosco. E se annaffiamo il tutto con un buon bicchiere di birra, anche analcolica, a base di luppolo, i risultati sono ancora più evidenti. Per una volta beviamo poco per farci del bene. Se ami anche tu la salute naturale, metti un bel mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente. Ciao!